Opera Prima, un festival da record. La 17esima edizione a Rovigo. 8 giorni, 10 location e 33 eventi. Sono i numeri della 17esima edizione del festival Opera Prima, dal 5 al 12 settembre. Storicamente diretto dal Teatro del Lemming, è rilanciato nel 2018 dall'associazione Festival Opera Prima, che anche quest'anno ha realizzato il festival in collaborazione con il Teatro del Lemming e l'assessorato alla cultura del comune di Rovigo, con il contributo della Fondazione Cariparo, della Fondazione Rovigo Cultura, del Ministero della Cultura e di SM7. Oggi a Palazzo Nodari si è tenuta la presentazione. Siamo felici, ha detto l'assessore alla cultura Roberto Tovo, di poter nuovamente presentare questa eccellenza artistica. L'ambito culturale è quello che ha maggiormente sofferto della pandemia, ma che ha anche saputo interpretare al meglio questa condizione, con una nuova socializzazione per godere del bello, dell'arte e della cultura. Come negli anni precedenti, il festival popolerà quindi teatri, spazi urbani e luoghi storici della città, con i lavori di alcuni dei gruppi più originali del panorama nazionale ed europeo, dando vita quest'anno ad una programmazione sempre più marcatamente multidisciplinare. Accanto al teatro, infatti, saranno presenti anche eventi legati alla danza, alla letteratura e alla musica. Gli spettacoli, da domenica 5 a domenica 12, saranno diffusi in tutto il territorio cittadino. Accanto al teatro studio ci saranno eventi alla ex chiesa del San Michele, alla Gran Guardia, al Chiostro degli Olivitani, in piazza Vittorio Emanuele II, ai giardini Due Torri e in piazza Nonaria.